Trasformare le parole disabilità, integrazione e inclusione in abilità, rispetto e opportunità. Questa è la sfida che da anni l'associazione Crescere sta portando avanti, adesso anche assieme a destra. La Multi Utility Toscana ha infatti attivamente sostenuto e fortemente voluto il progetto di officina 104 Mir, finanziando un ciclo di 20 incontri di musicoterapia che saranno condotti dal maestro Paolo Dioni, con una laurea in pianoforte e un professionista della musicoterapia, iscritto al Consiglio Unitario dei musicoterapisti clinici. Il progetto si chiama Officina 104 Mir, che vuol dire Motricità, Inclusione e Ricerca, dove Motricità è l'avviamento allo sport, che quest'anno verrà fatto con un avviamento allo sport all'Accademia del Karate, per abituare i ragazzi al coordinamento e al movimento. Inclusione, perché tutti i nostri progetti sono inclusivi e quindi guardano a largo spettro per includere anche i bambini e i ragazzi normotipici. La ricerca, perché cerchiamo sempre di dare dei dati. All'interno di tutto questo progetto ci sono dei laboratori. Tra i laboratori c'è anche il laboratorio di musicoterapia, che è stato finanziato con un contributo di extra. E' un percorso che abbraccia tutta la durata dell'anno, perché inizia ottobre e finisce a fine maggio, per tre gruppi di utenti, quindi per un totale di 15 utenti più o meno. Gli incontri, iniziati lo scorso 16 ottobre, si terranno al centro di socializzazione L'Accordo di Subiano.